Si è auto-celebrata, regina. Io non glielo l'ho mai detto. Ah, ok, 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 sì. È la mia, me lo sentivo, è la mia. Farà un po' di casino. Hola! Bella che sei. Come va? Bene. Bene, finalmente eccomi. È arrivata la regina, ragazzi. Ciao! Giulio, piacere. Laura. Più che corone, qui vedo cuori. L'ho visto, è lui. Giulio. Ho pensato, chi è quel buono? Ma chi è? Non è la mia ex. Fortunatamente, cioè, ancora non devo volare su qualche... che è frutto già... già fruttato. Allora? Allora? Benissimo. Come è? Ti possiamo offrire da bere? Sì. Sì. Che dici? L'ha messa lì accanto, beh, ha visto le piume, secondo me, che si stavano un po', eh? Ha detto, voglio fargliela aprire, l'ho visto. Facciamo un brindisi, ragazzi. Ben arrivato. Ben arrivato. Sì. Ben arrivato. Sì. Dopo, ogni tanto non ti ho scritto io, ma mi hai scritto tu. No, no. Io non chiedevo mai nessuno, sempre lui che viene cercato, sempre lui, Gimmo, palestra, fa tutto così. No. Sì, siamo un po' frequentati, però io sono una ragazza che dà il 100% in una relazione. Matteo, l'uno. Pensavi che ci poteva essere una relazione tra di voi? Sì, è che, no, andavo sempre io da lui e lui non ha mai fatto un passo verso di me, ma tanto alla fine si sa che con me voleva una cosa seria, voleva costruire un qualcosa. Con le altre, una sera, così. Aveva trovato la regina, ma se non la sai tenere, se ne va. Eh, è la verità. Si è autocelebrata la regina, io non glielo l'ho mai detto. Eccolo. Dammi del terrore, vuole leggere te? Sì. Laura, benvenuta ad Ex on the Beach. Davanti a te tre uomini belli belli in modo assurdo. Scegli chi vuoi per un primo appuntamento all'insegna dell'arte della conquista. Ok, Giulio. Sapevo che avrebbe scelto Giulio. Ho scelto Giulio, secondo me, per farglielo un po' pagare. È il vostro appuntamento. È il nostro appuntamento? Vai, trattala bene. Sicuro meglio di te. No, Matteo, hai già sbagliato. È già sbagliato. È guerrita lei, eh. Però, sì, ti rovina questa. Dentro la fila ti rovina. Secondo me no, non riesce a combinarci nulla, però magari mi sbaglio, eh. Siamo salvati, ma siamo salvati. Tu no, io sì. Giulio lo vedo proprio fuori perso. Cioè, ancora in Italia lui, cioè. Da un'altra parte proprio. Perché Giulio è un'aquila. Tu no, non riesce a combinarci nulla, però magari non riesce a scopera, malaria. Oh, ho. Ti rovo. All prueba.